Secondo i giornalisti di Roma la situazione nella capitale è questa Ok ovviamente come sempre accade quando parliamo della qualità del giornalismo italiano Ho fatto anche un video ieri riguardante l'Orza Marena come è stata descritta dai media Oggi volevo parlarvi del problema cornacchie assassine che spaventano e attaccano l'intera cittadinanza di Roma Ma non solo, in tutte le città perché questi sono i titoli che leggiamo, guardiamoli Eccoci qua con il primo articolo di Roma Today, venerdì 26 maggio 2023 Le cornacchie spaventano Roma, attaccate due donne in un parco Casi analoghi in questa stagione sono stati registrati anche negli scorsi anni Ecco, ora ragazzi la domanda sorge spontanea Secondo voi perché le cornacchie diventano così terrificanti e spaventano la cittadinanza? Semplicemente perché ci troviamo a maggio durante la stagione riproduttiva del corvo, della cornacchia E quindi che succede? Succede che se le persone si avvicinano troppo al pullo Ovviamente i genitori, le due cornacchie, cosa fanno? Difendono la prole Una notizia che non è una notizia Purtroppo il giornalismo in Italia soffre di questa malattia del sensazionalismo Dello scoop, della ricerca del clickbait Non lo so, forse i giornali e i giornalisti italiani se la stanno passando male E quindi non hanno il tempo e le risorse necessarie per approfondire le notizie Ma soprattutto per dare una visione reale della storia Senza questo inutile scalpore, questo inutile allarmismo Che ogni singola volta mettono in campo quando si parla di fauna selvatica Ed è questo quello che stiamo facendo noi colleghi, divulgatori Chiamateci come volete Stiamo provando proprio a dare razionalità a queste notizie Che di razionale hanno nulla se vengono date in questa maniera Quando in verità non c'è proprio da stupirsi Del fatto che due cornacchie difendono il proprio pullo Dove sarebbe la sensazionalità? Anzi, sarebbe molto utile piuttosto da parte dei giornalisti E dai detentori del potere informativo che hanno questi mass media Che hanno una grande visibilità Proprio quello di fare corretta informazione Ma chiaramente stimola molto di più il clickbait Un titolo come le cornacchie assassine Aggiungiamoci un aggettivo in più Spaventano Roma Ovviamente questo titolo ha un appeal molto maggiore rispetto Vediamo il perché le cornacchie a volte Ma non sempre attaccano gli esseri umani durante la stagione riproduttiva Chiaramente questo titolo sarebbe molto meno clickbait Quindi farebbero meno soldi E allora a questo punto faccio un appello a voi cittadini E anche a me stesso e a tutti i miei colleghi Quando vediamo determinati titoli Facciamoci un favore Non clicchiamo più Non andiamo più a fomentare questa inutilità Dell'informazione in Italia Perché se prendiamo questo caso della natura Come esempio della qualità del giornalismo Dobbiamo tutti quanti preoccuparci Perché dobbiamo renderci conto Siccome fanno notizie scalpore su temi banali Come due cornacchie che attaccano un passante Pensiamo a quanta manipolazione ci sono in altre notizie Ben più importanti E che ci riguardano da vicino E riguardano esattamente il nostro futuro Quindi prendiamo l'esempio delle cornacchie O qualsiasi altro evento Ad esempio ci sarà un video che parlerò prossimamente Circa le orche che attaccano le barche a vela Nello stretto di Cibilterra E ho visto qualche titolo Titoli incredibili Titoli come le orche assassine Che attaccano e affondano le barche a vela Anche se questo è un evento vero Chiaramente dobbiamo capire il perché E non è perché gli animali Sono improvvisamente impazziti E prendono di mira l'uomo Anche se ne avrebbero tutto il diritto Ma lo fanno per svariate cause Spesso e volentieri per difendere la prole E non è l'essere umano la sola specie Che difende i propri cuccioli Perché lo fanno tutti gli animali Perché è nel loro istinto Perché è la natura Ed impariamo a rispettarla Bene ragazzi Per questo brevissimo video è tutto Fatemi sapere cosa ne pensate Dell'informazione italiana Qui sotto nei commenti Ma senza essere volgari Io sono Alessandro E questo è Keep the Planet Il canale che parla di natura e conservazione Ciao